Questa mostra a fotografie dei grandi spazi di Walter Bonatti è un'occasione veramente straordinaria per apprezzare il lavoro che ha fatto Walter in tutta la sua vita, tutta la sua vita che è soprattutto divisa in due periodi, uno quello che chiamiamo l'esplorazione verticale in cui ha conquistato le montagne di Mezzomondo con delle imprese assolutamente straordinarie d'alpinista e poi una seconda parte in cui la sua verve, la sua capacità come fotografo si è affermata attraverso invece queste esplorazioni orizzontali, nei cinque angoli del mondo, cercando in situazioni inesplorate in cui lui faceva le fotografie, ne scriveva e per di più era il soggetto di molte delle fotografie, per cui diciamo un one show veramente straordinario. Questa mostra è il modo di apprezzare veramente non solo di conoscere ancora meglio la fama di Bonatti come grande uomo di avventura in tutta la sua vita ma anche soprattutto le sue capacità immense come fotografo e come scrittore perché queste fotografie poi fatte molte alcune decine di anni fa hanno ancora una forza espressiva molto forte appunto e quindi questa mostra è l'occasione giusta per poterla conoscere e apprezzare.